ecco ora un consiglio facile facile per voi per farvi del bene alla sera quando andate a dormire potete dedicare due minuti a voi stessi in questi due minuti potete fare una cosa bellissima e utilissima massaggiarvi la pianta dei piedi massaggiare i piedi prima di addormentarsi rilassa moltissimo applicando una pressione con i pollici sotto la pianta del piede su quelli che tecnicamente si chiamano punti riflessi aiuta a ridurre lo stress accumulato e migliora lo stato generale di salute del corpo questa è una pratica di medicina olistica ed è conosciuta come riflessologia plantale secondo la riflessologia i punti riflessi delle piante dei piedi sono connessi agli organi del corpo sotto la pianta si trova come una mappa di tutto il corpo e con la giusta pressione con i pollici si può stimolare il funzionamento degli organi capire com'è disposta questa mappa sotto il piede è semplice immaginate la pianta del piede davanti a voi e al fianco della pianta del piede immaginate una figura umana intera un piccolo omino della stessa misura del piede la testa e il collo corrispondono alle dita dei piedi immediatamente nella fascia sotto abbiamo i polmoni nella fascia ancora sotto abbiamo stomaco fegato e minza ancora più sotto abbiamo intestino e vescica e alla base del piede sul tallone abbiamo gli organi genitali e gli archi inferiore così potete fare due cose la prima è scoprire se ci sono dei punti più dolenti sotto il piede che corrispondono a zone un po scariche di energia affaticate la seconda è insistere su questi punti e osservare se giorno dopo giorno la situazione cambia sia sotto il piede che a livello generale del corpo se si massaggiano i piedi ogni sera si possono prevenire alcuni disturbi rinforzando gli organi migliorando la circolazione e anche il sonno perché secondo la teoria della riflessologia plantare la pressione stimola il cervello a liberare ormoni come l'endorfina e la serotonina con una conseguente azione rilassante antistress e terapeutica grazie a tutti